La toma piemontese è un formaggio che viene prodotto utilizzando esclusivamente latte vaccino proveniente dalla regione Piemonte. Conosciuta fin dall'undicesimo secolo, questa tipica lavorazione casearia un tempo si concentrava principalmente nelle aree montane, dove veniva prodotta dai malgari che vi si trasferivano nella stagione estiva, per poi tornare nel fondo valle in inverno. Ancora oggi gran parte della produzione di questo prelibato formaggio avviene ai piedi delle alte vette alpine, in un ambiente incontaminato nel quale le vacche da latte possono alimentarsi con le profumate erbe e i di fiori dei pascoli di montagna. La Valsesia, area montuosa che occupa la parte settentrionale della provincia di Vercelli, è una delle principali produttrici di questo prelibato formaggio piemontese. Nato nelle caratteristiche malghe che costellano il suo territorio, da secoli viene prodotto seguendo poche e semplici procedure, tramandate dalla tradizione e rigorosamente rispettate dai malgari. Imperdibile per chiunque si recchi a visitare questa magnifica valle alpina, un assaggio delle miacce, sottili sfoglie preparate con un caratteristico attrezzo che vengono solitamente farcite con Toma piemontese e Salù. Le miacce sono una preparazione tipica della tradizione Valser. La Valsesia, infatti, nella sua parte più settentrionale, fu abitata fin dal Medioevo da popolazioni provenienti dalla Germania, che si insediarono ai piedi del massiccio del Monte Rosa e che portarono in questa zona le loro tradizioni e le loro conoscenze. Grazie